Alvia il servizio di menza scolastica, un servizio che costa tanto all'ente, ai cittadini quanto costerà? Ai cittadini costa, per le categorie più deboli, quello che costavano negli anni passati. Già l'anno scorso abbiamo inserito le fasci sé, come abbiamo fatto un po' per tutti i servizi che eroghiamo, per cui chi guadagna di più, che raccoglie qualcosa di più, ma credo che sia un criterio giusto, chi più appare, questo è così già dallo scorso anno. Quello che ci vengo a sottolineare è che nelle nostre scuole dell'infanzia si cucina ancora come si faceva una volta, cioè c'è chi la mattina va a fare la spesa e chi poi cucina quello che si compra, a differenza degli altri comuni capoluogo dove invece c'è il pasto veicolato. Io credo che questo sia una cosa importante, oggi si parla tanto di alimentazione, si parla tanto dell'importanza dell'alimentazione e credo che sottolineare quello che a Teramo, per scelta politica, si continua a fare e credo che sia assolutamente importante, perché di parte è una scelta politica che noi ci saremmo potuti adeguare al pasto veicolato e magari far pagare meno rispetto a quello che si paga adesso, però credo che sia importante che i nostri figli quando frequentano le nostre strutture sanno che c'è una cuoca che la mattina, come si faceva tanto tempo fa, cucina per loro. Quindi è una scelta che io voglio rivendicare, siamo soddisfatti, i risultati sono buoni, i controlli che vengono effettuati dalla ASL danno sempre buoni risultati, quindi davvero siamo soddisfatti. Avremmo potuto assolutamente rivolgerci al pasto veicolato, come avviene in altri comuni. Questo non vuol dire che magari il pasto veicolato non è buono, sicuramente è buono.